Graziano Pelle 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 e 94 e poi c'è il 79 resistenza che è molto buono perché comunque lui sembra anche di più in game perché davvero non si stanca mai in più questo giocatore ha 4 stelle piede debole che sono l'ennesimo pro perché davvero può tirare con entrambi i piedi senza problemi e poi ha 2 stelle skill che non sono un contro perché comunque da un bestione come lui di certo non ci aspettiamo le skill e anche se le avesse avute sarebbe stato impossibile utilizzarle perché comunque ha un valore come 37 di equilibrio e 69 di agilità in più ha un work rate di alto normale quindi davvero molto molto buono perché sta sempre lì in area di rigore e davvero non sbaglia mai adesso andiamo a fare un ripiro di precontro che oggi è molto semplice perché 3 pro troviamo tutto e 3 contro troviamo niente perché davvero è un attaccante fortissimo e l'unico voto che posso dargli è assolutamente il 10 perché lo merita davvero vi consiglio di provarlo perché è divertente ed è una vera e propria macchina da gol detto questo questo video può finire qui invito a lasciare un like a commentare con le vostre impressioni su Graziano Pelle se l'avete provato e da Erco per lo stato del team FIFA Italia è tutto ci vediamo in un prossimo video bella